La festa di un patrono che è San Donato Vescovo. Nella città credo che abbia due rilievi, due richiami di particolare importanza. Anzitutto è un invito a riscoprire la comunità. Il Vescovo è segno in un ambiente, una città, una diocesi di unità. L'altro elemento che mi sembra da rilievo alla festa del patrono San Donato come Vescovo è il guardare al Vescovo come simbolo dei valori spirituali. Allora per la città di oggi è un richiamo questa festa a ritrovare le dimensioni di profondità della vita al di là della religione. Questo secondo il Vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro il senso della ricorrenza per la comunità retina che è pronta a celebrare il santo patrono San Donato, il secondo Vescovo di Arezzo. Le celebrazioni sono in programma per mercoledì 7 agosto ma come da tradizione comincerà nel giorno precedente ovvero martedì 6. Per me è la prima volta che vivo la vigilia della festa perché l'anno scorso ero con i giovani a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù quindi è una prima volta anche per me. Allora quest'anno ho invitato a presiedere i Vespri il Vescovo e Merito Riccardo in modo che viva questa partecipazione alla nostra festa e io ci sarò poi per l'offerta dei ceri che è un incontro con le varie comunità perché c'è la rappresentanza dei comuni, c'è un primo momento di raccolta di persone, di popolo e di spirito di festa e quindi avremo questi momenti la sera del martedì e poi i momenti classici della festa di San Donato, la messa in pieve alle 11 e poi alle 18 in cattedrale, alle 18 anche con le varie istituzioni e con l'invito a partecipare ai preti della diocesi. Grazie a tutti.